Ciao a tutti, sono Teresa Rasori, partecipo anch'io a questa bella iniziativa dell'Università per stranieri di Siena e vi leggo alcuni versi tratti da Sottospecie Umana, un diario poetico del poeta fiorentino Mario Luzzi che è stato pubblicato alla fine del ventesimo secolo e quindi sul principio del nuovo millennio il poeta si interroga su ciò che caratterizza l'animo umano di ogni luogo e di ogni tempo e tenta di descrivere con queste parole proprio il desiderio di infinito che è di ogni uomo. Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno? Di che? Rotta la diga, ti inonda e ti sommerge la piena della tua indigenza. Viene, forse viene da oltre te un richiamo che ora perché agonizzi non ascolti. Ma c'è, ne custodisce forza e canto, la musica perpetua. Ritornerà, sii calmo.